Sta emergendo un nuovo enigma nel panorama del gossip, Belen Rodriguez, la celebre showgirl, sembra aver perso qualcosa di prezioso, il suo anello di fidanzamento con Elio Lorenzoni. Non è solo una questione di gioielleria, ma un simbolo d'amore che ha acceso l'allarme tra i fan. Sei intrigato? Lascia un like e iscriviti per esplorare insieme questo mistero. C'è tensione nell'aria. I più attenti hanno notato l'assenza dell'anello di Belen nelle sue recenti apparizioni su Instagram, sollevando domande sulla stabilità della sua relazione con Elio. Un piccolo dettaglio o un segno di crisi? Cosa ne pensi? È un segnale che qualcosa non va, o forse è solo una scelta di stile di Belen? Dicci la tua opinione nei commenti. Prima di saltare a conclusioni affrettate, ricordiamo che Belen e Elio hanno trascorso del tempo insieme nella natia argentina di lei, mostrando un'immagine di felicità. Quindi, questo potrebbe essere solo un caso innocente. La vita di coppia è piena di sfumature, non credi? Condividi le tue riflessioni con noi e iscriviti per restare aggiornato. Concludendo, sembra che Belen e Elio siano ancora una coppia solida. Tuttavia, nel mondo dello spettacolo, le apparenze possono ingannare. Resta con noi per gli ultimi aggiornamenti su questa storia intrigante. Credi che la sparizione dell'anello sia solo un dettaglio, o c'è di più sotto? Lascia un commento, metti un like e iscriviti al canale per non perdere le prossime novità. Ci vediamo al prossimo video! Ciao!